una delle nostre amiche che velenosa sono uno spettacolo sono qualcuno c'è ancora dagli un bacetto ogni tanto qualcuno la becchiamo ancora poche ma ce n'è oggi sei numero uno io non provo dai che ti riportiamo a casina però mi sa che dai bravissima a posto è libera al riparo strano ma vero di solito troviamo solo la tana della oltre bella